A proda sul tavolo del Ministro della Giustizia dopo essere già stato portato alla ribalta del Ministero della Salute il caso del pronto soccorso dell'ospedale Ruggi di Salerno dopo il video shock divulgato dalla trasmissione Piazza Pulita. A presentare un'interperlanza al Ministro Nordio è stato l'onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, dichiarando a nome del gruppo Noi Moderati che sul caso Ruggi non ci fermeremo, andremo avanti per restituire dignità ai pazienti. Così, presentando l'interpellanza urgente al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, Bicchielli chiede di sapere quali iniziative intenda assumere per verificare le motivazioni che hanno condotto il Pubblico Ministero ad archiviare il caso un anno fa, nonostante avesse già ricevuto i filmati che ha richiesto anche nelle ultime settimane consegnati ai carabinieri dal signor Gianluca Stella, infermiere in servizio presso il pronto soccorso del Ruggi che ha realizzato il video pubblicizzato poi da Piazza Pulita. L'interpellanza sarà discussa in aula nelle prossime settimane e sarà possibile seguirla in diretta dai canali ufficiali della Camera dei Deputati. Le immagini trasmesse a Piazza Pulita sono terribili, ha detto Bicchielli, il dramma della solitudine per pazienti che sono costretti ad attendere in pronto soccorso senza potersi rivolgere ai familiari in caso di necessità. Per questo, ha aggiunto, andremo avanti fino alla fine, ringraziando anche Gianluca Stella per il coraggio che ha avuto nel denunciare pubblicamente l'orrore all'interno del pronto soccorso del Ruggi. Grazie a tutti.